Manca poco, il Piano Operativo Sanitario 2022-24 sarà presto portato all'attenzione della Sise Civica di Palazzo San Giorgio. La seduta straordinaria, prevista per lunedì 9 maggio, fa sapere l'amministrazione guidata da Roberto Gravina, è finalizzata a promuovere un ampio e partecipato dibattito sullo strumento di programmazione sanitaria. Alla riunione sono stati invitati anche il Presidente della Regione e Commissario d'Acta per la Sanità, Donato Toma, e il Subcommissario Giacomo Papa. Ci aspettiamo che fino adesso non c'è stato nessun confronto, quindi anche all'interno della conferenza dei sindaci al momento abbiamo avuto interlocuzioni con il Ministero, è prossima l'aduzione del nuovo decreto, quindi il 71 che supererà il famoso Balduzzi, però soprattutto vogliamo capire, atteso che già per lo scorso posto non ci fu nessun tipo di confronto, quello che accadrà anche per la realtà dei cartarelli, perché ci sono state un paio di dichiarazioni e di uscite pubbliche che francamente non sono coerenti con altre uscite che riguardavano per esempio gli ulteriori investimenti sul Cardarelli come idea di secondo livello. Insomma c'è qualcosa che non torna e quindi vorremmo che all'interno di un Consiglio quindi della sede istituzionale il Presidente della Regione e Commissario chiarisca questi aspetti proprio per chiarire il ruolo che l'ospedale Cardarelli avrà anche per il futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.